Allora siamo qui in compagnia di Marco Travaglio e naturalmente la sentenza della Tribunale di Milano oggi è la notizia del giorno ancora. Allora queste toghe rosse che sentenza hanno emesso? Le toghe rosse hanno fatto il loro mestiere, hanno valutato il materiale probatorio, hanno deciso che non c'erano prove per dire che Berlusconi e Previti avessero corrotto il giudice verde per la SME e quindi li hanno assolti. Poi hanno stabilito che ci sono le prove per dire che Berlusconi, Previti e l'Avvocato Pacifico hanno corrotto il giudice squillante sia con 100 milioni all'indomani della sentenza definitiva SME, quindi la SME c'entra anche in questa sentenza di condanna e poi con 500 milioni nel 91, tre anni dopo, sempre sui conti esteri del giudice squillante. Hanno affibbiato 8 anni a squillante per corruzione giudiziaria e 5 a Previti soltanto perché nel 91 ancora la corruzione giudiziaria non si applicava al corruttore ma soltanto al corrotto e non hanno potuto fare altrettanto con Berlusconi per la semplice ragione che Berlusconi si è sottratto al processo con il lodo maccanico. Berlusconi è fuori da questo processo non perché siano cadute le accuse nei suoi confronti, due delle tre accuse, i 100 milioni più i 500 milioni a squillante, riguardano anche lui, è fuori da questo processo quindi non perché siano cadute le accuse ma perché si è estratto lui dal processo con una legge che si è votato e che ha costretto a votare la sua maggioranza. Questo è il senso della sentenza che dimostra ancora una volta che i giudici non ricopiano le requisitorie dei pubblici ministeri ma vanno a vedere ciò che li convince e ciò che non li convince. Questa è la sconfitta di coloro che hanno detto che a Milano non c'era giustizia, che a Milano bisognava emigrare a Brescia, che a Milano c'erano i giudici appiattiti, che bisogna separare le carriere e che bisognava delegittimare il Tribunale di Milano. Naturalmente chi accetta questa sentenza come tutti la accettano deve accettare anche le altre emesse dal Tribunale di Milano, da quelle che hanno condannato Craxi tre volte a quella che ha condannato Previti per avere corrotto un giudice Metta perché derubasse l'ingegnere De Benedetti della Mondadori e la passasse al Cavaliere Silvio Berlusconi, tangente ancora una volta pagata con i soldi delle aziende del Presidente del Consiglio che quella volta è uscito dal processo grazie alla prescrizione e non all'assoluzione. Mi ha un po' inquietato veramente un commento che si è sentito rimbalzare dal centro-destra in questi giorni che diceva che bisogna cercare in questo momento altrove le responsabilità se ce ne sono sul processo SME. Quindi additavano, forse nel centro-sinistra, qualche personaggio che potrebbe avere delle responsabilità secondo loro? Se si riferiscono alle responsabilità dei magistrati, una soluzione non significa che bisogna processare i pubblici ministeri, significa che i giudici hanno valutato diversamente il materiale probatorio e ci mancherebbe altro. I processi si fanno appunto per vedere se uno è colpevole o innocente. Non è che ogni volta che uno viene assolto si va a processare il pubblico ministero, anche perché come abbiamo visto non si sono inventati la corruzione giudiziaria a Roma. La corruzione giudiziaria a Roma c'era, in certi casi sono riusciti a provarla, in altri casi nel caso del giudice verde accusato di aver ricevuto dei soldi incontanti era molto più difficile provarlo e quindi giustamente nel dubbio è stato assolto. Se invece ci si riferisce alle responsabilità di Prodi in quella che loro chiamano la svendita della SME, siamo proprio fuori dalla realtà, non c'è stata nessuna svendita. Il prezzo della SME di 500 miliardi fu stabilito da due periti della Università Bocconi di Milano, quindi non da Prodi e non da De Benedetti, fu confermato dal Consiglio d'amministrazione dell'Iria all'unanimità, fu riconfermato da una perizia disposta dal Ministro Dari da Demo Cristiano, fu riconfermato da un voto unanime della Commissione Bilancio presieduta allora da Pomicino, fu riconfermato ancora dal Cipe, cioè dal Comitato Interministeriale dei Ministri Economici e Finanziali del governo Craxi. Poi Craxi si mise di traverso perché non gli pagavano le tangenti e quindi non voleva dare la SME a De Benedetti, ma Craxi rappresenta il Consiglio, mentre la SME apparteneva all'Iri, quindi Craxi non aveva alcun titolo per opporsi. Noi nel nostro libro lo chiamavano impunità, abbiamo pubblicato addirittura il documento che dimostra che i periti dei due alleati di Berlusconi nella controcordata, e cioè Barilla e Ferrero, avevano valutato la SME 490 e 470 miliardi, stabilendo dunque che Prodi a De Benedetti la stava facendo pagare addirittura troppo rispetto al suo valore effettivo. E concludiamo, vorrei fare una battuta, ma comunque Berlusconi troverà sempre un meccanico dalla sua parte? Berlusconi troverà sempre un meccanico efficientissimo, come l'ha trovato quando si trattava di salvare Rete 4 dal satellite, e come lo ha trovato quando si trattava di salvare se stesso dal suo processo. Il tutto, stiamo parlando di due processi che hanno prodotto una condanna complessiva a previti in primo grado di 16 anni di reclusione per corruzione di giudici, e questi festeggiano pure. Verrebbe da dire 16 anni e non sentirli. Grazie a Marco Travaglio e alla prossima occasione. Grazie a voi. Grazie a voi.